Rimedi naturali e casa per la malattia di Parkinson. Morbo di Parkinson. Questa è una malattia degenerativa cronica del sistema nervoso. Sebbene sia generalmente considerata come una malattia della vecchiaia, si può anche verificare nella mezza età, può richiedere anni o decenni per manifestarsi sintomi gravi. Le cause di tutte le malattie nervose degenerative includono, ma non sono limitati a, i seguenti fattori. Tossicità dei metalli pesanti, vedere l'articolo rischi per la salute di metalli pesanti. Carenza di vitamina B12, cliccare sull'ulteriormente scheda di lettura alla pagina qui. Magnesio carenza, cloruro di magnesio, magmare puro, sta cominciando ad essere ampiamente riconosciuto per la sua capacità di contribuire a risolvere il morbo di Parkinson. Si prega di fare clic sulla scheda più leggere nella pagina qui. Fallimento della funzione mitocondriale delle cellule. Ogni cellula del corpo ha un po' di candela biologico, chiamati mitocondri. Questi mitocondri sono responsabili consentendo alla cellula di elaborare l'ossigeno correttamente per fornire energia per tutti i processi biologici chimici. Restauro di questa funzione fornendo enzimi specifici per ripristinare la funzione mitocondriale si è dimostrato efficace nel ridurre i sintomi della malattia di Parkinson. L'infezione cronica, in vista della possibilità di infezione cronica essere una delle cause del morbo di Parkinson, l'uso di argento colloidale in piccole dosi regolari può aiutare. Argento può anche esercitare un'influenza guarigione sulle cellule danneggiate. Si veda anche, l'articolo relativo micoplasma-infezioni e il loro legame con malattie croniche. Anche se mio nonno recentemente scomparso non è mai stato ufficialmente diagnosticato il morbo di Parkinson, ha lottato con gravi danni neurologici e fu costretto a letto durante i suoi ultimi giorni. La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa in cui le capacità motorie, come camminare e parlare, sono compromesse a causa di danni cerebrali. Il neurotrasmettitore nel cervello chiamata dopamina è importante per le capacità motorie, ed i pazienti di Parkinson soffre di una mancanza di produzione di dopamina nel cervello. Non c'è una sola cura per la malattia di Parkinson, ma i medici sono in grado di gestire i suoi sintomi attraverso la prescrizione di farmaci e interventi chirurgici. Alterare la chimica del cervello con la prescrizione di farmaci può essere terrificante, ma ci sono molti composti nootropici naturali disponibili per il trattamento del morbo di Parkinson che sono stati usati per migliaia di anni. A causa del mio interesse per nootropics è potenziamento cognitivo, ho trovato e studiato questi cinque rimedi particolari che possono essere utili nella lotta contro la malattia di Parkinson. Mucuna prurienz, L-Dopa. Questa pianta tropicale viene raccolta in Africa e nelle regioni dell'Asia in cui è stato utilizzato nella medicina tradizionale fin dai tempi antichi. La pianta è particolarmente utile perché è una fonte adeguata di L-Dopa, che è il precursore della dopamina, quali pazienti di Parkinson mancano. Numerosi studi suggeriscono Mucuna prurienz sono un ottimo strumento per il trattamento del morbo di Parkinson, e alcuni fanno affermazioni che ha vantaggi rispetto prescrizioni convenzionali. Mucuna prurienz non solo aiuti della prevenzione delle malattie di Parkinson, ma migliora anche l'umore attraverso il rilascio di dopamina supplementare. Bacopa monnieri. Bacopa monnieri è un'erba che sta rapidamente diventando uno dei più noti e ampiamente studiato antichi rimedi indiani nel mondo occidentale. È utile come host per scopi cognitivi di miglioramento, tra umore e la memoria. Ancora più importante, Bacopa è stato studiato come strumento per ridurre la morte delle cellule neurologiche nel sistema della dopamina. I malati di Parkinson non hanno dopamina perché i brain cells che lo creano sono danneggiati. Bacopa può prevenire tai danni. Utilizzando monnieri Bacopa, è possibile per i pazienti a prevenire il declino neurologico e, auspicabilmente, stallo o sintomi del morbo di Parkinson retromarcia. Creatina monoidrato. Creatina monoidrato è spesso considerato un supplemento di bodybuilding, ma è molto più. Creatina può essere usato per trattare elementi di morbo di Parkinson pure. poiché la creatina può conservare la creazione di dopamina nel cervello, è uno strumento perfetto per la gestione di Parkinson. Come già sapete, la funzione della dopamina è la principale fonte di problemi per i malati di Parkinson. Inoltre, la creatina è un composto il corpo umano crea internamente, e consumano nei prodotti animali. Prendendo 2 a 5 grammi di creatina monoidrato quotidiana è ben studiate per aver pochi effetti collaterali, quindi potrebbe essere un'importante aggiunta al trattamento di qualsiasi Parkinson. Cacao flavanoli. Tutti noi amiamo il cioccolato fondente, e la malattia di Parkinson è un altro motivo per mangiare. Flavanoli del cacao sono estratti di cacao che sono pieni di composti antiossidanti. Molti di questi sono direttamente correlati con la produzione di dopamina, che è una delle ragioni per le persone si sentono così felice mentre si mangia il cioccolato. Quando si tratta di malati di Parkinson, un po' di estratto di cacao può andare un lungo cammino. Cacao agisce come un ottimo strumento per migliorare la dopamina. Olio di pesce. Molte persone conoscono i benefici dell'olio di pesce per ottenere gli acidi grassi omega 3 adeguati, ma può anche aiutare i pazienti con malattia di Parkinson. Un sintomo comune di malati di Parkinson è la depressione, e l'olio di pesce da solo crea effetti antidepressivi indipendenti di qualsiasi farmaco di prescrizione. Anche se la depressione non è solitamente una preoccupazione principale dei malati di Parkinson, è un sintomo comune che può essere combattuto con olio di pesce naturale. Perché l'olio di krill è meglio assorbito, può essere meglio per combattere la depressione, invece di prescrizione di farmaci. Rimedi naturali di Parkinson. Anche se i rimedi naturali per la malattia di Parkinson può essere utile, è importante vedere ancora un medico per una valutazione esperta. Alcune fasi della malattia di Parkinson sono meglio gestiti con procedure aggressive e invasive, quindi è sempre meglio avere il parere di un medico in ogni momento. Questi 5 rimedi naturali possono essere utilizzati in combinazione con interventi chirurgici o anche in pazienti anziani con una storia ereditaria del morbo di Parkinson. Sono grandi le medicine preventive, così come i metodi naturali per il trattamento precoce in sorgenza di Parkinson. Tè verde. Non molte persone possono dire una cosa negativa circa il tè verde organico in questi giorni, e per una buona ragione. Oltre ad aiutare la perdita di peso, lotta contro il cancro, e di aiutare con l'invecchiamento aggraziato, tè verde mostra segni di essere in grado di aiutare contro il morbo di Parkinson. Brahmi. Conosciuto anche come bacopa, questa erba ayurvedica è spesso utilizzata negli Stati Uniti come piante acquatiche in acquari. Alcuni professionisti come Reisa Eliana, MD, sostengono il suo uso come un miglioramento della memoria, come è stato usato per secoli in India. Secondo l'Università del Maryland Medical Center Study, Brahmi può migliorare la circolazione al cervello e anche proteggere le cellule cerebrali. Covage. Un'erba popolare in India, Covage o Capicacu, si trova in cespugli di foreste di pianura in tutto il paese. Curcuma. Non possiamo smettere di parlare di curcuma, e ci sono molte ragioni. Ha guidato un team di ricercatori che hanno trovato che la curcumina, un composto di curcuma, può aiutare a combattere la malattia di Parkinson interrompendo le proteine? Responsabili della malattia e prevenire dette proteine? Da aggregare.